Buonasera a tutti, in questo video volevo parlare con quelli che si definiscono cristiani. In poche parole dicono di credere in Gesù, ma in realtà non credono in Gesù, credono in un dio pagano, Mitra, quel dio pagano che è stato introdotto nel culto dall'imperatore Costantino, che di fatto era un pagano e adoratore del sole, e trasformò il cristianesimo in un sincretismo pagano. L'Islam vero, non quello dei Sunniti o degli Sciti, cerca di riprendere quello che era il cristianesimo delle origini, ovvero il vero messaggio che era quello di adorare soltanto Dio. E Gesù nella Bibbia, se ne guardiamo la profezia di Mosè del Teoronomio 18, è definito il profeta che doveva venire. Mosè disse, Dio metterà le sue parole nella sua bocca, è guai a chi non lo ascolta. Dio susciterà per voi, per i vostri fratelli, un profeta come me. A chi si riferiva? Si riferiva a Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo nel Vangelo dice, se credeste in Mosè lo ascoltereste? Perché egli aveva scritto di me. Quindi Gesù dice di essere il profeta profetizzato da Mosè in Deuteronomio 18. Questo è quello che dice la Bibbia. Ma i cosiddetti cristiani non gli basta la verità, ovvero che Gesù è il primo angelo di Dio. L'Apostolo Paolo lo chiama Angelo del Signore, non lo chiama Dio, lo chiama Angelo. Il profeta che doveva venire. Quindi, questo dice la Bibbia. Il Corano, quando Gesù dice, in Sura 19, versetto 30, in un discorso pronunciato secondo il Corano e secondo alcuni Vangeli apocrifi riconosciuti dalle Chiese orientali, in un discorso pronunciato da Gesù nella culla per volere di Dio, quindi un miracolo, dice, mi ha benedetto, ma Gesù disse, in verità sono un servo di Dio, mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta. Ma era il profeta che doveva venire, non un profeta qualunque, il più grande dei profeti. Quindi chi dice che Gesù è Dio in realtà nega la Bibbia e nega il Corano, nega tutte le profezie dell'Antico Testamento. Quando Isaia definisce il Messia servo di Yahweh, Questa dicitura è ripresa nel Corano, non è che è un insulto al Messia, in realtà il Messia dal cielo, perché il Corano dice che Dio lo ha preso e l'ha elevato in cielo, l'ha elevato fino a sé, e noi sappiamo che Gesù, secondo il cristianesimo, nel cristianesimo è morto, risorto ed è asceso in cielo, Gesù piange per questi miscredenti, perché è miscredenza? Quindi, che Dio illumini le vostre menti. Con questo è tutto, vi saluto.